Allora, buongiorno. Samuel, l'assistito di cui vi parlerò, sarebbe venuto molto volentieri al convegno insieme alla sua famiglia, ma valutando poi l'impegno ad affrontare il viaggio con due bambini, uno di quattro anni e uno di quattro mesi, ha declinato l'invito autorizzandomi a parlare di lui e Katia, la moglie, mi ha consegnato la sua testimonianza scritta e che poi mi ha incaricato di leggere alla fine del mio intervento. Io inquadro brevemente il caso. Allora, Samuel aveva 17 anni quando tornando dal lavoro la sera del 22 luglio del 98, cade con il suo motorino procurandosi lesioni molto gravi che lo hanno costretto a una sedia a rotelle, diagnosi, tretarplegia. L'istituto nel corso degli anni, nella sua presa in carico tramite il centro protesi di vigorso di Vudio, oltre alle forniture prescritte per la sua disabilità, gli ha dato modo di acquisire la patente speciale di guida, riconoscendo e realizzando poi gli adattamenti all'automezzo. Sono state realizzate poi altre azioni mirate a raggiungimento di una maggiore autonomia, supportato da una rete familiare amicale molto solida, nel corso degli anni ha acquisito ottime competenze informatiche che gli hanno permesso di svolgere attività lavorative a contratto. Anche all'interno della sua comunità molto piccola, una comunità montana, ha coperto e tuttora copre il ruolo di consigliere comunale, partecipando attivamente alla programmazione e di sviluppo del suo territorio. Ha poi conosciuto una ragazza con la quale dopo alcuni anni di convivenza ha realizzato quello che andremo a vedere insieme. Io vorrei sottolineare che tutte le azioni dell'istituto volte a favore di Samuel hanno avuto buon esito in primo luogo grazie a lui che ha avuto la capacità di renderle fruibili per un maggior benessere e con il coraggio di realizzare un suo progetto di vita. Le foto che vi mostriamo ritraggono la sua famiglia nella sua nuova casa speciale 15 anni dopo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 vittoria più bella. Il primo traguardo è stata la nostra casa, grande, bella, comoda. Sono finiti i tempi in cui non si poteva uscire perché pioveva o nevicava e adesso Samuel non muore più di sete se non ci sono io. L'accessibilità che siamo riusciti a ottenere lo porta a essere molto autonomo. Qui un sentito ringraziamento va all'Inal che ci ha sostenuto e aiutato a farla diventare realtà anche se la burocrazia ci ha fatto perdere parecchie notti. E poi sono arrivati Sebastian e Nicholas. Anche qui pazienza, lacrime, attesa. Sembrava impossibile ma alla fine anche noi siamo diventati genitori. Sebastian, che ora ha tre anni, chiede spesso al papà perché lui non cammina. La semplicità con cui Samuel ha spiegato la sua situazione l'ha reso normale, anzi speciale, perché il mio papà è mio a chi tenta di spingere la carrozzina senza prima chiedere il permesso all'ometto di casa. Le difficoltà ci sono e ci saranno sempre ma con l'amore e la forza di volontà siamo riusciti sempre a superarle. Certo a volte ci vogliono anni ma noi non abbiamo fretta. abbiamo noi l'uno per l'altro.